buon salve benvenuti e bentornati sul mio canale a questo giro le riprese iniziali del video saranno nella camera di mio fratello nonché mia attuale camera anche quindi non stupitevi di un po di colore di questa inquadratura un po così ma soprattutto della luce del telefonino che riflette sui miei occhiali che perennemente fa vedere questi quadrati luminosi ma pazienza come ho detto sempre noi ci adattiamo con quello che abbiamo vi faccio vedere anche una sola piccola parte della colonna di peluche che mi appartengono questa è la prima colonna e di là c'è la seconda colonna e di là c'è un altro contenitore con altri peluche per un totale di 60 peluche se non di più di tante forme e dimensioni ma oggi siamo qui non tanto per un tutorial perché in realtà io sto costruendo un keyblade ok sì keyblade famosissimo oggetto utilizzato nel gioco di kingdom hearts per chi lo conoscesse scusate la mia pronuncia in inglese perché sto costruendo un keyblade innanzitutto non sarà un keyblade conosciuto è un keyblade del tutto originale da me disegnato e diciamo che è anche ispirato a un personaggio che in kingdom hearts non si è mai visto o meglio su internet se cercate sicuramente troverete diverse fan art ispirate a questo personaggio e alle sue compagne ma io ho avuto l'idea di ridisegnarlo da zero quindi fare il keyblade io il personaggio io e vedere un po' che cosa ne usciva fuori ma non è che l'ho fatto così tanto per perché un giorno mi sono alzata e l'ho voluto fare vi ho accennato se non erro lo scorso video o qualche video dietro ancora che a breve ci sarà il palermo comic con dal 9 al 12 dicembre se non sbaglio sì credo proprio di sì e io ci andrò solo la domenica perché perché ho trovato passaggio solo per quella giornata vedi che novità siccome appunto avevo pure accennato sta cosa che stavo preparando il cosplay alla ragazza di questo mio amico che mi darà passaggio e ve lo svelerò direttamente più in là con delle foto mi è venuto il pallino di fare anche io qualcosa non mi sono limitata a diciamo prendere un personaggio e fare il cosplay già pronto di quel personaggio mi sono detta dato che ho disegnato questo keyblade perché non disegnare anche un costume in stile kingdom hearts di questo personaggio e allora ho creato sailor jupiter in versione kingdom hearts non so se adesso dopo vi farò vedere magari le foto che avevo già pubblicato sui social dove faccio vedere la bozza non l'ho colorata né niente nella mia testa c'è ma ancora su carta ho fatto soltanto la bozza a matita ovviamente in corso d'opera sicuramente sia il costume che il keyblade subiranno delle modifiche perché io appunto si chiama bozza per un motivo cioè è un'idea iniziale di un qualcosa che poi puoi migliorare definire puoi peggiorare nulla ovviamente io su carta ho scritto ciò che in teoria dovrebbe servirmi per costruire questo keyblade saranno veramente degli oggetti totalmente a caso veramente totalmente a caso e dato che ho la fortuna di avere dietro casa un cinese abbastanza fornito ho pensato di farmi un giro lì e vedere che cosa mi propone ovviamente io cercherò di spendere il meno possibile perché a priori anche il costume più low cost del mondo soprattutto se deve essere dettagliato ha i suoi costi infatti io non credo di spendere meno di 50-60 euro per il cosplay complessivo cioè sì è poco rispetto ad altri cosplay che magari voi avete visto o ai quali voi siete abituati però come io non sono una cosplayer chersosamente diciamo a livello agonistico che quindi lo fa spesso lo fa per lavoro o è la sua passione primaria perché io innanzitutto alle fiere ci vado sia per stare in compagnia di amici che magari vedo pochissime volte sia perché vado a spendere i miei soldi in cose che magari proprio in giro non si trovano anche se anche su questo ho da ridire ma andiamo avanti è perché proprio Sailor Jupiter chi mi conosce sa che io ho un fetish proprio per le Sailor proprio passione numero uno totale proprio Sailor numero uno e di tutte le Sailor la mia preferita è Sailor Jupiter sin da piccola io l'amavo perché intanto condividevamo questo fatto di avere i capelli scuri sempre legati, lunghi, gli occhi verdi ci piaceva il rosa poi mi piaceva il fatto che nella sua divisa c'è una predominanza di verde che con lei magari non condividevo il fatto di essere tipo 1,70 m di ragazza e pesare tipo meno di 60 kg ma pazienza io spero di renderle onore di farle un omaggio nonostante il mio 1,58 m di altezza per circa 78-80 kg di morbidezza poi chi lo sa magari qualcuno mi farà delle foto talmente wow che nemmeno sembrerò io in foto e mi renderà figacciona pazzesca ma questo ovviamente tutto nella mia immaginazione non so se veramente accadrà però la cosa che mi piace di questo chiamiamolo progetto è che è totalmente realizzato da me quindi la mia idea era prendere dei costumi già pronti e modificarli infatti diciamo che i pezzi forti del costume saranno appunto il Keyblade dato che mi sono data la costruzione di props cosplay low cost e anche del giubbotto ecco il giubbotto sarà il pezzo forte di tutto il costume perché? perché io originariamente avevo pensato di fare un giubbotto a jeans verde dato che io faccio prevalentemente quelli però non mi dispiaceva l'idea di disegnare sulle copelle ed è lì che mi è venuta l'idea di prendere un chiodo chiodi bellissimi, classici, neri però io lo volevo verde poi dato che in giro è difficile trovarlo di questo colore soprattutto ho pensato di dare uno sguardo a Vinted li ho trovati ma non della mia taglia purtroppo e quelli che trovavo della mia taglia non erano del verde che in realtà volevo io io per lei, per Sailor Jupiter vorrei dei verdi abbastanza accesi tipo verde speranza, verde prato al massimo verde pastello voglio tipo verde oliva o un verde troppo scuro no, no, no in alternativa se non dovessi trovarlo verde avevo pensato di farlo o nero col disegno e via e porterò tanti dettagli verdi la parte sotto del pantalone, quello che è oppure stavo pensando però non mi convince tanto la cosa di prendere un chiodo rosa e su Vinted ne ho trovati tantissimi rosa pastello o anche un rosa un po' più acceso che ricordano sì i dettagli del costume di Sailor Jupiter dato che c'è la verde, bianco e rosa però io il rosa di più lo attribuisco o a chi bi usa che praticamente è un big bubble che cammina o al massimo dato che si parla di rosa pastello avevo pensato che fosse anche più vicino al personaggio di Bunny o Usagi come la volete chiamare la chiamate Sailor Moon, ecco Sailor Moon quindi non so se ci starebbe o al massimo per poterlo rendere diciamo più vicino al personaggio di Jupiter avevo pensato di fare sì il disegno dietro con degli elementi che ricordano lei e magari nelle maniche fare tipo le fasce avete presente il giubbotto di Wolverine che ha delle fasce ecco tipo quella cosa lì però con strisce verdi in modo che così c'è praticamente la base pastello rosa e se strisce verdi magari pure un po' qualcosa di bianco in modo sempre da richiamare la divisa poi sotto sarà una predominanza di nero con dettagli verdi perché sinceramente mi trovo a mio agio con dei vestiti scuri con alcuni dettagli colorati fare invece al contrario essere tutta colorata non mi va il Keyblade per come l'ho disegnato non so se a questo punto del video già ve l'ho fatto vedere o meno è abbastanza pacchiano abbastanza eh altrimenti la maggior parte dei Keyblade sono pacchiani quindi di che stiamo a parlare la mia idea è stata di scorporare tutti gli scettrini che si utilizzano durante la trasformazione ovviamente ognuna delle Sailor a parte Sailor Moon e Kibiusa hanno gli stessi scettrini ma con il dettaglio diverso in base al pianeta che le governa per chi le conoscesse sono divise praticamente in modo cromatico c'è quella rossa quella blu quella verde quella viola quella arancio eccetera eccetera io anzi in fin dei conti mi sono andata a scegliere una con un colore abbastanza facile da reperire in giro oddio non so cioè io su Vinted ho trovato chiodi rossi chiodi gialli capito? gialli gialli cioè il chiodo giallo che tu pensi chiodo giallo subito pensi a Freddy Mercury ma vabbè cioè giallo capito puoi fare già un giubbotto dedicato a Sailor Venus per dire però capito c'è quello giallo giallo fluo c'è tutti i tipi di giallo però verde no quel tipo di verde lì no oppure c'è ma non della mia taglia quindi sono due le cose o io devo dimagrire per poter prendere le taglie che offre Vinted o mi devo adeguare ai tipi di verde che vengono offerti ma io non voglio adeguarmi ai tipi di verde che ci sono se io ho in testa un tipo di verde quello deve essere e poi soprattutto io sono dell'idea che i vestiti si devono adattare alla persona e non la persona ai vestiti quindi ergo se riesco a trovare sto benedetto chiodo verde benissimo rimango contenta altrimenti ci sono queste alternative o male che vada giubbotta jeans verde e me ne esco sempre ripeto se lo trovo poi proprio alternativa dell'alternativa è proprio l'ultima è prendere il classico chiodo nero fargli il disegno e poi fare delle aggiunte così magari tipo al posto dei bottoni mettergli delle roselline dato che comunque se lo Jupiter è amante del giardinaggio e in modo particolare il fiore che gli viene attribuito sono le rose canine se non erro sono tipo delle rose selvatiche e tendenti a rosa se non sbaglio o comunque in generale a lei vengono attribuite sempre le rose infatti i suoi orecchini sono delle piccole rose rosa rosa che io non so se potrò mettere perché eh eh io ho l'allergia bigiotteria praticamente le mie orecchie se entrano in contatto con la bigiotteria letteralmente si gonfiano di pus e non è un bello spettacolo ma proprio istantaneamente infatti io tipo da anni metto sti bottoncini d'oro per evitare qualsiasi tipo di dolore e tragedia o al massimo posso prendere degli adesivi a forma di rosa e metterli sopra ok magari non sarà un bel vedere probabilmente li perderei durante la fiera però giusto per rimanere fedele al personaggio poi altra cosa non potrò mettere le lentine eh eh quindi dovrò girare con questi occhiali e se mi chiederanno delle foto ogni volta togliere fare la foto rimetterli e bla 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 sì non posso mettere le lentine perché i miei occhi scemi scemissimi non le sopportano io c'è stato un periodo tipo tra i 18 fino ai 21 22 anni che le mettevo sempre ma proprio sempre 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 solo quando andavo a dormire non le mettevo poi a un certo punto il mio occhio si è rotto cioè nel senso proprio si è rotta le scatole e mi ha detto tu lentine non te ne metti più quindi potevo mettermi pure le lentine proprio appena aperte della marca più shock niente il mio occhio cominciava a lacrimare a diventare gonfio io non ci vedevo più piangevo e niente quindi ho detto addio alle lentine quindi avrò pure questa da noi si dice camurria dove io non è che mi danno fastidio dover tenere gli occhiali durante la fiera cioè io senza gli occhiali non potrei praticamente vivere però il fatto che chiunque si avvicinerà mi dirà ah ma è se lo riubiter perché allora ti tieni gli occhiali dovrò tipo dare conto e ragione non so a quante persone ma non è vero non sono proprio obbligata quindi quindi stica dei labri stican dei labri alla fine il cosplay è quello è divertimento in primis poi se uno lo vuole fare per far bella figura per fare le gare vincere soldi vincere console vincere viaggi cacchi suoi se uno lo vuole fare così giusto per passarsi il tempo allora pure cacchi suoi io tipo cosplay non lo faccio da non so quanti anni probabilmente tipo otto anni se non di più perché mi ero rotta proprio fare il cosplay poi in fiera che ti fermano ogni secondo per le foto poi magari ero scomoda poi altro problemino sì io sono una persona molto problematica fisicamente e le lentine non le posso mettere gli orecchini di biciotteria non li posso mettere i miei piedini sono piatti e ho la suola ortopedica quindi devo mettere delle scarpe apposite ecco che per il costume avevo pensato a degli stivaletti semplici neri e colorare la suola di verde o rosa dipende come mi girerà però ovviamente devono essere gli stivaletti comodi dove posso mettere la mia suola ortopedica e poter camminare senza soffrire già dopo mezz'ora di camminata anche dal punto di vista scarpe io mi dovrò adattare a ciò che i miei piedi chiederanno a priori mi ridurrò una pezza con le caviglie grosse così perché io ogni volta ho sto problema che ho solo ortopedico non solo ortopedico che se cammino per tante 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 ore quindi facendo avanti e indietro su e giù e bla 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 i piedi mi si gonfiano e io mi ridurro proprio piangendo a fine giornata perché non riesco a togliermi nemmeno le scarpe di quanto sono grosse le caviglie per dire e durante le fiere si sa si cammina tanto e succede succede perché sì potrei optare per le mie scarpe da tennis classiche dato che la maggior parte delle scarpe da tennis che sono nere nere e bianche o comunque scure cioè facilmente abbinabili a vestiti sportivi ma per l'occasione avevo pensato magari anche di così aggiungermi qualche centimetro e avvicinarmi il più possibile al personaggio di Sailor Jupiter dato che se non era è proprio un metro e sessantotto un metro e settantà di ragazza non lo so sotto nei commenti scrivetemi quante altaselo Jupiter perché non mi ricordo tantissimo poi sono contenta perché è una cosa abbastanza originale quindi non è una cosa che si vede in qualsiasi fiera sono contenta anche per questo quindi dopo aver fatto diciamo questo vlog di circa e quasi 20 minuti dove vi spiego che cosa ho in mente cosa andrò a fare che poi probabilmente facendo i tagli durerà meno di 20 minuti quindi fate finta che non abbia detto niente direi di andarci a vestire sistemare scendere dai cinesi andare a comprare il necessario così possiamo iniziare a fare questo keyblade e vedere che cosa ne viene fuori in questo momento sono tipo le 15 15 e 30 non vi fate ingannare dalla serranda scesa tutta ma è perché semplicemente qui entra il sole mio fratello odia il sole preferisce tenere la stanza chiusa come un bunker che poi prima devo vedere se devo fare una cosa io se non era avevo già un impegno quindi non so vi prometto che in giornata verrete con me a comprare le cose dai cinesi però ok non vi prometto che sarà tra 5 minuti tra 10 minuti o tra qualche ora ci andiamo quindi tranquilli fate quello che dovete fare così senza impegno se vi va vi accompagnate dal twinese e mentre a voi lascio questa scelta di proseguire la visione di questo video o meno così a titolo informativo conoscete le sailor qual è la vostra preferita scrivetemelo sotto nei commenti e vediamo in prevalenza qual è la più citata e voglio proprio vedere i coraggiosi o le coraggiose che mi scriveranno sailor chibiusa veramente se mi scrivete sailor chibiusa posso capire per la prevalenza di rosa e per il design carino ma per altre cose non vi capisco è la bambina più odiosa del mondo degli anime dei manga con tanti problemi seri vabbè ci sarebbe tutto un discorso da fare su chibiusa ma lasciamo perdere alcuni saranno d'accordo con me altri meno comunque liberissimi di scrivere anche che vi piace sailor chibiusa fatemi sapere ci vediamo più tardi a dopo ed eccoci qui con il fascino della sera o meglio sono circa le 6 e mezza sono scesa dal mio cinese di fiducia dietro casa questo perché perché ho comprato le cose per fare il keyblade scusate la qualità del video ma cosa pretendiamo con le cose a basso costo questo ho appena speso 18 euro e 60 per comprare il materiale che mi serve per fare questo benedetto keyblade ma non un keyblade normale ma proprio quello che ho disegnato io per la fiera si sono in mezzo alla strada un tantino in mezzo alla strada effettivamente quindi accollatevi le macchine che passano i vari rumori tra un po' salgo a casa e faccio una panoramica di tutto quello che ho preso e voi direte vabbè ok 18 e 60 non male come prezzo per aver comprato il materiale per fare questo keyblade ma effettivamente cosa ho comprato appena voi vedrete quello che ho preso le vostre lezioni possono essere due o scoppiate a ridere chiudete tutto e date fuoco al vostro computer e poi mi verrete a cercare a casa per dare fuoco anche a me ma ci dissociamo dal dare fuoco alle persone perché no non si può fare oppure semplicemente con la classica faccia da persona incredula e magari con quella mano tesa verso la mia faccia come dire se vabbè non posso farla perché ho il sacchetto in mano ok le cose stanno sempre peggiorando con la qualità vabbè pazienza è il bello della diretta è il bello delle cose dal vivo appena vedrete le cose uh oscurità batman dove sei con le cose che ho preso poi le guarderete mi farete quella faccia metterete la mano in quel modo e mi direte vabbè perché ovviamente con tutto questo materiale che vedrete che veramente il nulla non c'entra niente con l'altra direte ma ma vero dici cioè con questo materiale puoi fare realmente un keyblade guardate la mia faccia cioè avete visto i miei video fino ad ora avete visto che materiale ho usato quanto ci ho speso state sicuri che con poco e con cose totalmente a caso posso fare una cosa carina e siccome vorrei spenderci il meno possibile per il mio cosplay forse questa sarà la parte più costosa cioè mi è venuto a costare meno il chiodo che ho preso per la parte superiore del costume del cosplay che devo andare a fare che è tutto il materiale per fare sto keyblade oddio mi sembrava una lambretta invece non è un motorino vabbè ok adesso sono arrivata quasi a casa quindi visto bellissimi mi avete fatto anche un po' di compagnia nel tragitto vabbè che non è tantissimo saranno 6 e 9 7 minuti a piedi quindi luce fu l'unica cosa che non sono riuscita a trovare di pronto un attimo mi sistemo gli occhiali sono state delle rose grandi o meglio le avevo trovate però il mazzetto di rose finte costava 7 euro a me me ne serviva una grande che fa spendevo 7 euro per tagliare una sola rosa di quel mazzo no quindi ho comprato direttamente il materiale che è costato molto di meno e me la faccio io ho preso della garza tulle il materiale quello che si usa per confezionare i confetti e farò una rosa grande da mettere in un certo punto del keyblade man mano che prendo il materiale nella mia testa tipo si montava sto keyblade e se esce fuori come solo nella mia testa dovrebbe uscire una cosa graziosa mi mantengo sempre sul basso dico sempre carina graziosa perché non voglio avere delle grosse aspettative e poi rimanerci delusa adesso sono arrivata a case suono un attimo dei miei salgo faccio la famosa panoramica della roba che apparentemente pare inutile e invece servirà per fare il keyblade oh mio dio no no guardatemi sugli occhiali ok scusate mi ero bloccata malissimo sul riflesso sul mio ok vabbè scusate scusate adesso salgo davvero stagionale 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 Grazie a tutti. Giuro che sta prendendo forma, per farvi capire io questo l'ho fatto dalle 21 di ieri sera circa fino alle 2 di notte, sì perché durante il giorno avevo la grevianza, la famosa grevianza e mi si è attivato il pallino della creativa la sera, ovviamente, ovviamente. Praticamente sono riuscita a fare la parte dell'elsa, cioè sì, è grande, perché molti di voi la guadranno e diranno ma non è troppo grande? Troppo grande no, è grande. Vabbè, rispetto alla mia mano tutto è grande, per farvi capire. Cioè, due mani mie ci entrano tranquillamente. Questa è la parte davanti, elaborata, non rimarrà così perché la parte bianca diventerà tutta dorata. Cioè, anche così bianca non è malissimo, però io, per come ce l'ho in mente, è tutta dorata la parte sotto. Qua c'è il fiocchettino che è in video, sembra un rosa slavatissimo, ma in realtà è un rosa pastello ma abbastanza evidente. Questa è una pallina di gomma ebbe in modo che anche, ecco qua, se sbatte non succede niente, anzi rimbalza. Nella parte retro invece rimane semplice, più così, sarà tutto dorato o forse aggiungerò tipo delle ramificazioni a simulare delle foglie, qualcosa del genere. Vabbè, la parte retro è quella che praticamente fa vedere tutti gli imbrogli, come si suol dire. Invece qua c'è un rialzino dove poi attaccherò la catena, però nella parte finale, invece di mettere il solito 4 simbolo di Sailor Jupiter, che poi sarebbe il simbolo di Giove, non il 4, metto, avete presente il simbolo in uno delle sue trasformazioni, in uno dei suoi attacchi, è una specie di corona dall'oro con un fulmine, una cosa del genere, ecco, metterò quella nella parte finale della catena. Scusate se non mi riprendo, ma sono indecenti. Poi questa rimarrà bianca, così, proprio come la vedete. Nella parte sopra devo realizzare una rosa con la carta dei confetti, una rosa bella, rossa, viva, bellissima. Da mettere proprio di sopra. Nella parte qui farò quella che è la lama esterna. Non farò la semplice chiave, ma farò una stella. La stella di uno degli scettrini di trasformazione di Sailor Jupiter, quello più iconico. E poi voglio mettere giù per tutto o quasi l'asta un rampicante. Sarà molto morbido, non so se metterò o un rampicante con solo le spine per dare una continuità alla rosa, oppure proprio un rampicante con delle mini foglie. Che poi si vedrà. La parte qui doveva avere pure una cosa elaborata, però sinceramente già di per sé così mi sembra che vada bene. Non voglio essere troppo... Nel giro ieri di quanto? Cinque ore io ho fatto questa roba. Sì, oggi devo scendere a comprare l'altra parte di materiale. Perché per la stella sono indecisa se farla o come questo materiale, quindi bella sostanziosa. Oppure io avevo visto proprio la stella in polistirolo, tutta bella, graziosa, col centro vuoto. Volevo mettere al centro una palla trasparente dipinta dentro di verde con il simbolo di Giove. Sarebbe figo inserire un liquido che praticamente è verde, un po' metallizzato e non si può fare. Scusate se la parte dell'Elsa è andata persa, ma il telefonino si era scaricato. Io me ne sono totalmente sbattuta. Praticamente la registrazione che stavo facendo dalle 21 fino alle 2 di notte è risultata corrotta. Non vi dico le bestemmie. Chi mi conosce sa che io sono andata dritto per dritto a letto incazzata come una biscia. Stamattina mi sono alzata prestissimo perché avevo il pensiero a finire sto robo. Adesso vi faccio ovviamente gli speed art di tutte le fasi successive. Non vi preoccupate, la parte speed art ci sarà. Mi spiace solo avervi fatto perdere la parte clou praticamente del Keyblade che è proprio l'impugnatura. Sorry. Ciao. Ciao. . Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Come stavo dicendo Adesso dobbiamo soltanto Prendere il progettino Vedere un po' questi strumenti Chi cosa deve fare Chi dove deve andare Accediamo la colla a caldo Che è la cosa fondamentale Perché io praticamente uso solo Colla a caldo per assemblare Tutti i miei strumenti Ovviamente materiale permettendo E vediamo un po' cosa ne esce fuori Ve l'ho detto Questo non è un vero e proprio tutorial Ma è un guardate quanto sarà figo il mio keyblade Datemi tutta la forza possibile Solleviamo le braccia in aria E donatemi tutta la forza che potete Ci aggiorniamo Al prossimo pezzettino di video Alla prossimo pezzettino di video E rieccoci qui nel nostro Nel vostro Adorato camerino Io lo so che voi volevate Che io facessi la registrazione Dal camerino E vi sto facendo abituare In un certo modo Quindi mi sembra giusto Mantenere le abitudini Come avete visto Dall'ultima panoramica Vi ho reso partecipi Del completamento Del mio adorato keyblade Il risultato finale È molto molto simile A quello che già avevo abbozzato Lo avevo messo giusto Nell'angolo ad asciugare Bene 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 C'è già asciutto Però l'ho lasciato giusto In quell'angolo lì Che vabbè Non vi inquadro Perché ci sono scatole Scatoloni Ma giusto per farvi capire Quanto è grande In confronto a me E sappiamo tutti Che qualsiasi cosa In confronto a me È enorme Volevo farvi vedere Quanto è grande Questa è solo La parte di sopra Ecco qui Questa è la parte sopra Scusate anche la qualità Però vabbè Qualità di video In questo canale Ma dove Uno dei dettagli Che avrei cambiato Probabilmente Cioè inizialmente La mia idea era questa Però poi vedendola A lavoro finito Mi sono detta Che forse Era meglio farlo Di un altro materiale Nella parte della stella Ho voluto aggiungere Questa specie Di spicchi dorati Nella panoramica Non c'erano Però una volta che l'ho finito L'ho guardato L'ho riguardato Non lo so Sembrava vuota Questa parte Ho deciso di aggiungere Questi raggi Chiamiamoli raggi Qui ci sono le due alette Che se ve lo state domandando Sono dei riferimenti Alle alette Dell'ultimo scettro Di trasformazione Delle Sailor Questo Ho messo anche il dettaglio Questo praticamente È uno di quei fili Sottilissimi Pelosi Che si attorcigliano Su qualsiasi cosa Ho voluto emulare Un rampicante Con le spine Le spine sono fatte In veltro Quindi sono leggerissime Non pungono realmente Ho aggiunto pure Giusto qualche dettaglio Così svolazzante Per dargli Un po' di movimento Anche nella parte superiore Come se già Non fosse abbastanza In movimento La lama Tutta bianca Ok tranquilla E ora arriviamo Alla mia parte preferita Che è l'Elsa Sì effettivamente C'è già in video Sembra Tipo se l'avvicino così Comunque dal vivo Vi giuro Oppure bellissimo Bla 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 Anche forse In controluce Si vede un pochettino Che è dorato Cioè non è semplicemente giallo Ma è dorato E poi le foglie Sempre in veltro Sono di base verdi E questo verde è qui Però ho fatto un po' Di sfumature Nella parte E basta Giusto per dargli Quel tocco in più Poi scendendo ancora più in basso Abbiamo questa palla Di neva verde Qui il dettaglio Del simboletto di Giove E qui abbiamo La nostra Graziosa Catenina Magari così si riesce A vedere meglio Ed è il simboletto Che appunto appare Nell'ultimo scettrino Delle Sailor Ho impiegato solo 3-4 giorni Che poi ovviamente Riducendoli in ore Sarebbe anche molto 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 di meno Ecco magari Vediamo se ve lo riesco A far vedere così Completo Ok basta L'ho rimesso nell'angolino Perché Cioè in quest'angolino O ci sto io O ci sta il Keyblade Perché per quanto è grosso Praticamente è metà me Io già sono Un metro e tanta voglia Di crescere Sto coso mi arriva Tipo in piedi Cioè mettendolo a terra Tipo mi arriva qua Per farvi capire Quanto io sono alta Diversamente alta Le cose giuste Diciamole bene Non vedo l'ora Di tornare a bazzicare Nel mio ambiente naturale Che mi è mancato Per un bel po' Cattiva pandemia Cattiva Se volete continuare a sostenermi E sostenere questo canale Potete iscrivervi Sui miei social Che troverete giù In descrizione Uno per uno E se volete Contribuire agli upgrade Futuri Almeno si spera Di questo canale Potete offrirmi Un caffè Su Ko-fi Che troverete Anche sotto Mi resta che Augurarvi una buona giornata E ci vediamo Alla prossima Ciao